Il prossimo pezzo, lo so chi di voi sia mai stato in India o in Oriente e abbia mai visto la differenza di come si trattano le mucche, quando a noi diventano nobino. Se andate per le strade di Bombay, la mucca si ferma in mezzo alla strada e la macchina ci gira attorno. Quello che vogliamo trattare con questo prossimo pezzo è un altro tipo di mucca, una un po' spiritosa. Il pezzo si titola Nella vecchio fattoria, la mamma del vitello.